Al Gifoni Experience i più piccoli sono al centro di un bellissimo progetto, beh, tutto fila! Lo sapete che al Gifoni c'è un posto dove scatenare la propria fantasia tra un mare di colori? Noi di Mucco Pallino siamo venuti a dare un'occhiata al filangolo! Un'iniziativa promossa dalla fila Giotto che quest'anno fa il suo ingresso qui al Festival di Gifoni con un progetto tutto dedicato ai più piccoli! Il connubio con Gifoni Experience nasce da una logica coerenza e vicinanza del mondo a cui ci rivolgiamo, perché a Gifoni si rivolge fondamentalmente ai ragazzi e anche noi ci rivolgiamo ai bambini e ai ragazzi! Diciamo che sono tre attività principali, di cui una molto importante è la creazione di un premio cosiddetto Super Bebé dedicato a una giuria di votanti dei bambini molto piccoli, perché per la prima volta quest'anno è nato il premio 3+, fondamentalmente dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni! Poi c'è lo spazio in cui siamo in questo momento, che viene detto filangolo, è uno spazio come vedete pieno, movimentato, di bambini che fanno tutto un sacco di attività, si divertono, colorano, giocano, imparano anche come il cinema funziona, perché ci sono delle attività dedicate per esempio allo storyboard, quindi come viene creato il cinema, utilizzando dei prodotti che sono molto comuni per loro! Libero sfogo alla creatività e al divertimento dunque, dove l'unico obiettivo è quello di preservare la gioia dei più piccoli! Stiamo realizzando in collaborazione con la FILAS i laboratori, nei quali facciamo vedere ai bambini come dall'idea si passa poi alla pratica realizzazione di quello che è un lungometraggio o cortometraggio in computer grafica 3D. Il bambino non è solo al centro del nostro bambino, è il nostro messaggio, perché chi meglio di lui può raccontare quello che vuole, quello che sogna, quello che spera. Noi alla fine non produciamo altri strumenti che, come dire, nelle mani del bambino diventano qualcos'altro. Loro ci raccontano i loro disegni, i loro sogni, le loro spieganze, il loro futuro, quello che vogliono. E questo secondo me è il messaggio più bello che ci trasmettono. Saluto con un grandissimo abbraccio tutti gli amici di Mucopallino, siamo al vostro fianco e lo saremo per tanto tanto tempo. Grazie.